Guardiamo ovviamente anche con apprezzione al mondo dello spettacolo, del teatro, al mondo della musica, del cinema. Questa mattina il ministro Franceschini avrà un incontro con una delegazione rappresentativa. Siamo disponibili a lavorare anche con tutti gli esponenti, con tutto il mondo della cultura, dello spettacolo, del cinema, che ci sta molto al cuore ovviamente. E poi c'è il settore del turismo, che sarà sicuramente all'esito del bilancio che faremo uno dei più colpiti, anche perché difficilmente potrà recuperare e rimediare a quello che è accaduto e a tutte le conseguenze pregiudizievoli sul piano economico. E probabilmente avvertirà anche per vari mesi lo scotto di queste misure restrittive. Sappiamo quanto questa crisi stia colpendo tutte queste attività e le molte altre che non cito in dettaglio. Tutte le lavoratrici, i lavoratori di questi settori. Il governo è profondamente consapevole della necessità di consentire la riapertura degli esercizi commerciali al pubblico e dei servizi alla persona e tutte queste altre attività, ripristinarle pienamente, non appena l'andamento dei dati epidemiologici lo consentirà. E quindi lavoreremo, già in questi giorni stiamo lavorando, per definire con la massima accuratezza i protocolli specifici e quindi necessari a una ripresa in sicurezza di tutte queste attività.